Il glitch che adesso vi andrò a mostrare vi farà sicuramente tornare un po' di nostalgia del vecchio Fortnite, il glitch infatti consiste in ricevere una ricompensa in stile capitolo 1 e per eseguirlo basterà recarvi su salve il mondo ed aprire un qualsiasi regalo che vi viene dato, una vecchia ricompensa che ancora dovete ottenere, e una volta aperta questa ricompensa tornate subitissimo su battaglia reale e riscattatevi alcune ricompense del pass, una o anche più ricompense che ancora dovete riscattare con le stelline del pass battaglia. Una volta fatto ciò ritornate su salve il mondo e aprite i regali che vi vengono dati e appunto vi andranno a dare le ricompense del pass battaglia con la schermata del capitolo 1. La schermata che usciva sempre nelle primissime season del capitolo 1 quando andavamo a ottenere una ricompensa. Saluto gli ultimi iscritti al canale e se sei arrivato a questo punto mi raccomando iscriviti.